Non c'è cosi ma non c'è serata, vai! Vado in giro per l'Italia e per le mie romagna e portando il nome di questo porto stasera siamo qua per mangiare abbiamo già iniziato come dico soprattutto e sempre io siamo qua per risvegliare che emozioni ragazzi! Noi siamo qua per risvegliare le farfalle le farfalle nello stomaco quella sensazione che si sente qualche volta nella vita e che magari a volte abbiamo sentire la signora là che ha bisogno la signora là che manca lo so quindi siamo qua per risvegliare le farfalle come faremo a risvegliare le farfalle? Noi abbiamo un metodo infallibile non c'è nessuno che non c'è nessuno